Io penso che il rapporto tra spazio, inteso come spazio dell'abitazione, spazio della città e vita, nel cambiare della vita e dei bisogni sia più complesso di quello sancito dal funzionalismo ma anche dai tentativi oggi di mappare direttamente, inseguire i comportamenti. Potremmo dire che noi siamo come dei paguri Bernardi che quando non ci va bene lo spazio un po' ci adattiamo, un po' ce lo cambiamo e spesso abitiamo anche in città del passato. Se il rapporto fosse così meccanico come il funzionalismo vorrebbe, dovremmo ricostruire una città ogni 30 anni. Questo non vuol dire che non ci sia un momento di grandissima innovazione nell'uso sociale dello spazio. Certamente il mercato aveva risposto in forma semplificata alla famiglia tipo che si poteva concedere un mutuo, per cui gran parte della produzione degli ultimi anni è stata basata non solo su un bisogno ma forse più su un meccanismo finanziario. Questo meccanismo è andato parzialmente in crisi e nel frattempo una domanda che esisteva forte ma non sapeva esprimersi è andata in evasa. In questo momento l'affievolirsi della macchinetta sta facendo emergere in maniera sempre più forte questa domanda. Domanda di persone che non trovano tutti i servizi nella società, che hanno bisogno ancora di avere una scala dei servizi, non so che sia la lavanderia in comune, magari anche uno che ti tiene il bambino, quelle forme di sharing e di solidarietà che non spesso il pubblico in forma istituzionale può dare e spesso una persona non agiata non può riprodurre completamente al suo interno. esperimenti stanno avvenendo, talvolta con difficoltà non è sempre facile mettere insieme domande offerte, mettere insieme la leva finanziaria con la gestione, con la cultura progettuale, con le aree, per cui potremmo dire che in questo momento da vari punti di vista lo stesso problema è guardato e si sta sperimentando sul tema con qualche esperienza parzialmente, forse più avanti, in paesi per esempio nordici, è vero che esiste una tradizione per esempio dell'Olanda, l'Italia è caratterizzata da una grande casa in proprietà, adesso forse il tema della gestione di abitazioni di chi non si può permettersi per la casa in proprietà o per altre ragioni può volere una mobilità più forte, vediamo cosa sta succedendo, se ne sta parlando molto, alcuni esperimenti già fruttuosi ci sono e secondo me il tema è guardarsi in giro e cercare di migliorarli sempre. Certamente quello che è interessante forse è che la nuova domanda non è circoscrivibile a uno solo strato sociale, a una sola per esempio etnia, il problema certamente di un'estrema varietà oggi di abitanti della città europea che non sono tutti per esempio di origine europea, per cui ci sono nei seminari su social housing si parla di under 35, over 65, co-housers, migranti, famiglie mononucleare e così via, c'è un tentativo di dare nomi sotto categorie a questi nuovi soggetti. In realtà potremmo dire che, per esempio, ciò che oggi le categorie di classe sociale sono più variegate, la prolaterizzazione potremmo dire di persone che vedono la strazione borghese è sotto gli occhi di tutti e viceversa forme di upgrading sociale molto forte da parte di piccoli imprenditori extracomunitari che dopo qualche anno riescono ad accedere a livelli di reddito inaspettati rispetto al paese d'origine. Ecco, questa estrema fluidità secondo me rende il fatto interessante, per quello forse non c'è più la famiglia tipo, l'utente tipo, proprio nei temi in cui si diceva prima. Il problema è la gestione, c'è una certa resilienza del fatto architettonico, dello spazio rispetto a questo carattere estremamente cangiante della domanda. Questo mi sembra il nodo. Non è tanto reinventarsi ogni tre anni la casa sul nuovo programma, ma di capire come le abitazioni che facciamo oggi possono anche rivelarsi fattive in condizioni che magari non sono del tuo presente, oppure che possono variare la dimensione dei nuclei familiari. Per cui temi di flessibilità, ma anche forse di capacità di uno spazio di avere certi doti di buona distribuzione, di qualità abitativa, anche di sole, che resista all'estrema idiosincratizzazione dei bisogni. Potremmo dire che lo spazio deve anche saper sopravvivere ai bisogni che l'hanno generato.